Finalmente ci si trova a parlare di cose concrete, io spero, perché fino ad oggi, dopo tre mesi che ho iniziato a portare avanti questa gara, non ho mai avuto la possibilità di incontrarlo, ha sempre evitato tutti i confronti, l'ho anche invitato a bere il caffè ma ancora sto aspettando, per cui benvenga a questo incontro. Io non mi devo confrontare con Denardi, io devo raccontare ai cittadini quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e quello che faremo e la stessa cosa farà Denardi, spero che ci spieghi qual è la sua visione di città, se poi il confronto sarà basato sulla polemica o sulla critica poi sono scelte comunicative. Queste le premesse del primo vero duello della campagna elettorale 2023 a Treviso, da un lato il sindaco uscente, il leghista Mario Conte, dall'altro Giorgio Denardi, imprenditore digitale, civico a capo della coalizione di centrosinistra, saliranno sul ring di Ferdinando Avarino alle 21.15 in punto. A tre giorni dall'incontro avuto lo stadio di Monigo è diventato un caso, con il primo cittadino accusato in particolare da Franco Rosi di Treviso Civica di aver urlato contro Denardi, spintonandolo. Le versioni restano contrastanti, severo denunci le parole di Conte nell'edizione del telegiornale di ieri sera con Denardi che rompe in parte il silenzio. Ho sempre voluto evitare questo argomento perché sono molto avvilito e deluso del comportamento che ho dovuto subire in quell'occasione. In un momento di grande sport non mi sembra il caso di comportarsi in quel modo, però non voglio aggiungere altro. Quello che è stato scritto io lo confermo, è tutto vero, quindi non aggiungo altro. Credo che citare i carabinieri e le denunce mi sembra veramente fuori luogo perché i carabinieri hanno altro da fare. Io credo che stasera avremo modo di chiarire e spero in diretta nel confronto tra di noi. Ci siamo confrontati su un tema, quello legato allo stadio, dove Denardi vuole far convivere il rugby e il calcio. Io no, io ritengo che a Monigo debba rivanere il rugby e al tennis debba rivanere il calcio, però tutto si è limitato a questo. Poi la ricostruzione è molto pittoresca da parte di un consigliere comunale, nello specifico Rosi, dove mi accusa addirittura di aver insultato e aggredito il candidato Denardi. Ripeto, è molto fantasiosa, tant'è che nelle ultime ore hanno già ridimensionato l'accaduto. Capisco la strumentalizzazione, però francamente è molto eccessiva. Tensione già alle stelle, quando manca poco più di un mese all'apertura delle urne, dallo stadio del rugby al ring, il passo è breve. Di quello che spiegano, parlano, illustrano gli altri candidati, lo ascolto certamente con interesse, però sono più concentrato sulla nostra proposta. Berrete un caffè, magari serale? Sì, speriamo di sì e speriamo che ci siano dei toni di rispetto reciproco, cosa che finora non ho potuto constatare purtroppo.